La natura spesso ci presenta dei fenomeni che sono al limite dell'incredibile. Solo la fantasia riesce a superare certi fatti che succedono. In questo caso si tratta di un parassita, un crostaceo parassita, che si chiama Cimatoa exigua. È un isopodo che parassitizza i pesci. Attraverso le branchie si attacca la base della lingua del pesce, praticamente ne provoca l'atrofia della lingua per carenza di sangue e quindi il parassita si sostituisce alla lingua del pesce collegando il proprio corpo ai muscoli della lingua. Il pesce che ne è vittima è in grado di utilizzare il parassita come una lingua normale. Quindi una sorta di simbiosi mutualistica, probabilmente ambedue gli animali ne ricavano un beneficio nel stare insieme in questo modo, che a noi ci sembra quasi al limite dell'horror. Ma comunque succede in natura ed è un fenomeno non frequentissimo ma comunque documentato. Grazie e alla prossima.